Non capisce che tutti gli omicidi sono collegati alle K, tranne Coney, ma lui era così irritante. Sì, questo mi sembra piuttosto ovvio. Lei è senza dubbio il peggior poliziotto della Terra. Dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi a proteggere questa casa. Metterò agente in borghese qui fuori 24 ore su 24. È davvero una notizia fantastica. Che c'è di fantastico? Andiamo. Sappiamo tutte e due che quella lesbica era carne da macello. E pensaci bene, che tipo di vita avrebbe avuto quel ragazzo senza braccia? Dimmelo. Sono stati un piccolo prezzo da pagare che adesso mi permette di mandare un messaggio a ogni genitore e ogni studente di questa università per informarli che se non sono sorelle, aspiranti sorelle, o vanno a letto con qualcuno della K, sono al sicuro e possono riprendere le loro normalità. Grace! Ciao, papà. Grazie al cielo. Che succede? Grace, su, andiamo. Aspetta, dove stiamo andando? Via da qui. No, papà. Io non me ne vado. Non quando le mie consorelle hanno più bisogno di me. Le tue consorelle vengono abbattute come al tiro al bersaglio. Io non me ne vado! E tu non puoi obbligarmi! Fra tre secondi ti prenderò in braccio e ti porterò via da qui, hai capito? Non credo proprio. È un uomo per bene e vedo che ama sua figlia. Ma se lei vuole restare, lei resta. Sono venuta qui perché ho scoreggiato di là e c'è una puzza tremenda. Ok. Papà.